Inventa, colora e attacca! È facilissimo! Crea i tuoi sticker e attaccali dove vuoi! Stickerello è semplice e divertente! Questo l'ho fatto io! In ogni bustina 5 formine e 8 fogli da decorazione! Stickerello ha soli 1,99€ in edicola! È un prodotto... Con Super Sabbia divertiti a casa come in spiaggia! Con la sabbia colorata crea tutte le forme che vuoi! Non sporca ed è facile da riordinare! In ogni confezione la sabbia e 3 formine! Super Sabbia! Sono in edicola a 2,50€! È un prodotto... BABAM!